Qui vi presentiamo le 5 migliori cassette portavalori. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Iniziando la nostra lista al numero 5. È un salvadanaio in acciaio resistente e affidabile, ideale per uso personale e specialistico. Ha un lucchetto misto con un quadrante a tre cifre. La custodia è incassata, molto utile, e anche grazie agli spigoli arrotondati della struttura non si corre il rischio di danneggiamenti involontari. Passando al numero 4. Pavo 8.014.408. Cassetta portavalori con lucchetto a combinazione. Realizzata in robusto acciaio, questa sicura è a strati epossilici. Viene offerto in colore grigio scuro. All'interno è presente un portamonete con scomparti per organizzare i materiali. Raccoglie un meccanismo di combinazione a tre cifre. Le sue dimensioni approssimative sono 31x25 cm. Per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. HMF 1001502 Cassetta portavalori con vassoio portamonete e banconote. Realizzato per la sicurezza e la praticità, questo privo di rischi è dotato di una carta di conteggio eurocoin rimovibile. All'interno sono presenti 8 scomparti per monete da 1 centa a 2 euro e 4 scomparti per banconote da 5 a 50 euro. È costruito in lamiera ad acciaio a tratta liscia, rivestita a polvere antigraffio in vari colori. Ha una serratura di sicurezza a cilindro con due trucchi. L'inserto in schiuma nel coperchio permette di salvaguardare le monete durante il trasporto. Almostat è top of our listat number 2. Masterlock P008 è un cassaforte piccola e portatile. Questo piccolo portatile senza rischi con mix elettronico programmabile è il servizio perfetto per viaggiare protetti. È ideale per viaggiare in auto, camion, moto d'acqua, hotel o vacanze in campeggio all'aperto. Consente di salvare in sicurezza cellulari, portafogli, lettori MP3, navigatori e anche altri piccoli ma costosi oggetti, particolarmente soggetti a furto. Viene fornito con un cavo d'acciaio che ne consente il fissando su un solido fattore di presa. E infine il numero 1 della nostra lista. Viro 4263 cassetta portavalori a combinazione variabile. Si sviluppa con una struttura in acciaio di 0,8 mm di spessore, riverniciata in rosso o blu. Per ottimizzare il trasporto, ha una maniglia in acciaio cromato posta sul coperchio. Il catenaccio della barra uncinata rimane in acciaio zincato spessore 2 mm. Il meccanismo a tre dischi con manopola di sblocco fornisce mille possibili combinazioni. I dispositivi tradizionali sono costituiti anche da una vaschetta portamonete in PVC dotata di vani adatti a tutti i tipi di monete. Le misure della scatola sono 250 x 180 x 88 m per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.